Ciccu ciccu, qui falco a tutti, qui falco a tutti, scusate ma sono mia a posto con la balaclava perché è un video così improvvisato perché sono dovuto andare a farmacia e è presente nella mia amica medesina e ragionando sulle ricette per dire che ha fatto a me lo Torino che ha detto ma al dottor perché praticamente c'è che fare, che ha prescritto un integratore a mia mamma, in del bello che mi si è di acquistarlo, ha detto che era mia e quindi si è un integratore, il mio farmaco salvavita, cioè la mia amica medesina ha dato le componentistiche chimiche per trovare il debito sostituto, ha detto che ho messo a mia mamma e ha detto che ora che c'è il dottor, sei che mia da far arrivare quello lì perché le bube, quindi ho detto al dottor che al cura l'influenza, lei ha poi l'influenza, capa? ciao ciao ciao